Due dei protagonisti della sfida del Papa Di Cardito, Manfregola e l'autore del gol Simonetti. Due parole giuste per Antonio? Una vittoria importante, ci mancava. Grazie a Simonetti e a tutta la squadra abbiamo già fatto una bella partita e tre punti fondamentali. Ciro, tu hai segnato l'emozione per questo gol così importante che vale tre punti dopo due pareggi consecutivi. Sì, sono contento che abbiamo vinto. Sono contento che ho segnato, dedico questo gol ai diffusi e a mia moglie che stava a casa sentire la partita.